abbiamo visto la scorsa volta come impostare i settaggi della macchina l'unica cosa che non ho fatto vedere è come rinominare la macchina che si attiva basta cliccare su rinomina e rinominare ho un cliente che gli ha dato un nome, si chiama Isotta lui potrebbe scrivere Isotta, sarebbe molto molto appagato ok, materiali è una sezione che ora sembra molto complessa perché ci sono tante voci come vedete abbiamo dei materiali che sono già inseriti nel programma semplicemente non si possono eliminare, teneteli l'unica cosa che vi consiglio di fare è scendere e andare nel materiale personalizzato cioè personalizzata qua voi potete intervenire su tutti i parametri per esempio qua i parametri sono bloccati perché? perché probabilmente sono già preimpostati io cliccando su personalizzata PLA, il primo che trovo posso intervenire sopra tutti questi vari valori visualizza nome, io per esempio utilizzo il PLA BASIC PLA BASIC che è il PLA più normale che esiste come marchio inserisco il marchio del fornitore che ho che è filo alfa ho trovato il suo filo affidabile e me lo sono scelto come fornitore sono anche rivenditore autorizzato quindi se volete del filamento filo alfa fatemi uno squillo il tipo del materiale è PLA e io gli ho dato come nome PLA BASIC perché è quello basico senza altri pigmenti dentro come colore lo metto assolutamente neutro perché può essere di qualsiasi colore bisogna anche inserire la densità che non conosco purtroppo dovrei chiederla e potete decidere il diametro del filamento che voi sempre inserite è importante perché se lavorate con i 3 mm qua dovete ricordarvi di dirgli che state usando i 3 mm poi una cosa interessantissima è inserire costo del filamento e peso del filamento perché il costo è rapportato al peso quindi io ho un costo del filamento pari a 15,57 e IVA esclusa e il peso del filamento non è un chilo ma sono bobine da 700 grammi ci sono bobine anche da 2,5 kg ma il calcolo lo faccio su questo perché all'inizio una persona compra più da 700 grammi che da 2,5 kg fatto questo possiamo inserire una descrizione descrizione del materiale vuol dire PLA normale virgola con caratteristiche termiche e meccaniche base le più scarse che esistono nel senso che non è scarso il filo cioè resiste non è scarso il materiale ma rispetto a tutte le scelte che ho è il peggiore come resistenza termica soprattutto termica e meccanica come ben saprete per il PLA qua ho scritto una stupidata normale informazioni sull'aderenza in realtà potete inserirlo io non lo inserisco ma lo inserisco solo per farvi vedere qualcosa scrivo aderenza buona virgola piano riscaldato da non usare perché perché così non uso il piano inutilmente fatto questo posso impostare le impostazioni di stampa e in genere stampo dai 200 ai 210 ora come impostazione di stampa lavoriamo a 205 facciamo una media temperatura del piano di stampa non lo voglio neanche vedere la distanza di ritrazione io utilizzo 7 ma non dipende dal filo ma dipende dalla stampante però io imposto 7 con alcune altre 2 con altre 3 e mezzo dipende dall'estrusore che montate poi velocità di ritrazione lavoro a 35 mm al secondo temperatura standby lasciamo 175 velocità della ventola 100 per cento tante volte la velocità della ventola comunque va modificata questi due parametri qua distanza di ritrazione e velocità della ventola anche se il PLA è sempre lo stesso vanno sempre riviste questo corso finisce qua perché nel prossimo corso vi darò le informazioni di stampa per il pet anche perché titolerò questo video si impostazioni dei materiali ma impostazioni specifiche per il PLA parliamo un attimo del PLA prima di chiudere il video se lo stampate a temperature troppo basse l'adesione fra i layer sarà scarsa e questo comporterà una durata minore dell'oggetto c'è una fragilità maggiore io consiglio di lavorare dai 205 in su controllate sempre che il materiale non carbonizzi ma a 205 gradi non mi è mai carbonizzato neanche a 230 se volete far uscire l'oggetto opaco abbassate la temperatura abbassate 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 potete arrivare fino a 190 195 se invece volete il PLA lucido che dia quell'effetto lucido non completamente liscio lucido potete aumentare di brutto la temperatura di stampa io sono arrivato fino a 230 235 andavo molto veloce ma il gadget lo volevo lucido è possibile quindi anche realizzare un gadget con una parte lucida e una parte opaca basta programmare la macchina in modo che abbia la temperatura modificata se questo video ti è stato utile condividilo e soprattutto visto che mi sto sforzando a fare il video per l'ultima versione di cura condividilo a tutti tutti quelli che conosci che hanno acquistato una stampante condividilo sui gruppi perché magari potresti evitare che qualcuno faccia qualche domanda inopportuna magari la risposta è sul video dagli questo bel consiglio alla prossima ciao ciao ciao